Sono alla tenuta Santa Maria Lapievi del signor Gaetano Bertani. Sono con Giovanni Bertani, titolare della tenuta Santa Maria Lapievi. Una tenuta localizzata ad esti Verona, a Colonio Le Colli. In questa proprietà abbiamo vigneti sia internazionali che autoctoni e produciamo sia vini bianchi che vini rossi. Questo progetto è nato nel 1990 con l'idea di sposare la tradizione di vinificazione e di viticoltura della famiglia con le tecnologie più avanzate per avere un maggiore controllo sulla qualità e arrivare a vini più complessi e più interessanti di quello che senza queste tecnologie normalmente si può ottenere. In questa azienda la tecnologia la fa da padrona e noi abbiamo messo tutta la nostra esperienza e la nostra tecnologia in questi impianti. Questo vinificatore è un termotank, è un vinificatore specifico per fare la fermentazione in bianco ed è completo di tutti gli accessori per fare il collegamento in profibus. Questo vinificatore è un meccano tank, è un vinificatore specifico per uve rosse con la vinaccia. È completo di tutti gli accessori di servizio, dalla pala di estrazione per le vinacce, la pompa automatica di rimontaggio con il suo quadro elettrico completo di PLC, il sistema interno di pali e rompi cappello per rompere il cappello durante la fase di devastage. Tutta questa tecnologia viene controllata tramite un sistema profibus e gestita tramite wireless. Basta un semplice telefonino per controllare e gestire tutta l'azienda a distanza. Ringrazio il signor Giovanni Bertani per averci ospitato. Ringrazio il signor Giovanni